Dottore Nea siamo ritornati qui da lei questa volta per approfondire un'argomentazione abbastanza ricorrente ultimamente ovvero sia l'utilizzo delle cellule staminali nelle infiltrazioni ma che cosa sono le cellule staminali e come vengono utilizzate in questo ambito? Le infiltrazioni di cellule staminali derivate da tessuto adiposo sono attualmente molto in voga le cellule staminali per definizione sono cellule capaci di differenziarsi in ogni tessuto del corpo umano a seconda del tessuto a cui vengono iniettate vicine quindi nel nostro caso osso o cartilagine sono cellule capaci di inibire i processi infiammatori e di potenziare i processi anti-infiammatori in realtà le cellule che noi iniettiamo le cellule staminali derivate da tessuto adiposo non sono propriamente in grado di rigenerare nulla nel sito in cui le andiamo a depositare sono però e agiscono come dei potenti immunomodulatori e come dei potenti anti-infiammatori Dottore abbiamo parlato di adipe quindi di grasso ma perché dal grasso? Allora il grasso innanzitutto abbiamo molto spesso abbondanza di grasso addosso ai nostri pazienti quindi a parte gli scherzi c'è un facile accesso a questa risorsa è un tessuto in cui le cellule staminali sono in proporzione elevata rispetto ad altri tessuti quindi una cellula staminale su 100 piuttosto che ad esempio una cellula staminale su 10.000 che noi troviamo nel midollo osseo il prelievo è un prelievo poco indaginoso poiché possiamo effettuarlo sull'addome del paziente e la qualità di queste cellule e quindi il loro potenziale anti-infiammatorio rigenerativo è indipendente dall'età del paziente Quando vengono utilizzate le cellule staminali in ambito ortopedico o meglio sia quali sono le indicazioni elettive per il loro utilizzo? Le indicazioni elettive sono le condropatie quindi la usura della cartilagine e quello che ne consegue quindi l'artrosi che sia però di grado modesto o moderato le, per dirlo in maniera generica, le infiammazioni dell'osso, specie dell'anca quindi le algodistrofie, le iniziali osteonecrosi le lesioni del menisco degenerativo nel paziente là con gli anni e le tendinopatie croniche queste sono le principali indicazioni In termini pratici la procedura di prelievo come si svolge? Allora l'operazione ovviamente per motivi di sicurezza avviene in sala operatoria con un paziente sottoposto a una blanda sedazione viene sviluppato il campo sterile all'addome quindi viene fatta un'anestesia locale e viene effettuata con una cannula molto piccola, molto sottile una liposuzione di tessuto adiposo procedura durante la quale generalmente il paziente non avverte alcun discomfort il tessuto adiposo viene quindi collezionato viene poi lavorato e ripulito diciamo da tutte le impurità compreso sangue e viene frammentato in modo che possa essere poi con facilità reiniettato in una fase immediatamente successiva quello che noi abbiamo preparato e lavorato viene in asepsi iniettato a livello del ginocchio per esempio oppure dell'anca in questo caso sotto guida radiologica Parlando di tipologia di paziente sono tutti possibili candidati a questa tecnica? Allora teoricamente sì anche se si preferisce sfruttare questa procedura per pazienti più giovani diciamo orientativamente al di sotto dei 60 anni inoltre essendo che comunque la liposuzione dell'addome rappresenta un piccolo intervento chirurgico io spingo sempre il paziente ad effettuare prima delle procedure meno invasive e più riproducibili come delle semplici infiltrazioni di acido ialuronico locali poiché se queste avessero efficacia il paziente non avrebbe bisogno di sottoporsi a questa procedura ovviamente vanno anche evitati quegli stadi di artrosi troppo gravi dove noi siamo quasi sicuri che il paziente non avrebbe beneficio dalla procedura stessa Dottore dal punto di vista del paziente quali sono le aspettative? cioè che cosa si può aspettare il paziente dopo appunto l'infiltrazione? Diciamo che nelle prime paio di settimane successive alla infiltrazione il paziente avrà generalmente una sensazione di pastosità dell'articolazione che sia essa anche a ginocchio per esempio e un livello di dolore variabile talvolta nullo talvolta invece un dolore che richiede l'uso di qualche blando analgesico successivamente tra le due settimane e i due mesi inizia l'effetto positivo di queste cellule staminali che si va a sviluppare poi generalmente appieno dopo i due mesi e il paziente torna a svolgere normalmente le sue attività in assenza di dolore quindi possiamo dire che l'efficacia c'è in tutti i casi? Purtroppo no, l'efficacia non c'è in tutti i casi e questo è una questione comune a tutte quelle che sono le cosiddette terapie biologiche quindi in molti casi avremo degli effetti eclatanti con un benessere che potrà esserci per 12-18 mesi e in taluni altri casi per variabili a noi oggi sconosciute l'effetto sarà quasi nullo diciamo che se vogliamo essere positivi questo è l'unico difetto di questa tipologia di intervento quindi non sappiamo, non riusciamo a predire che paziente ne beneficerà appieno e ci tengo qui a sottolineare che queste infiltrazioni, queste cellule staminali non sono la panacea di tutti i mali, non rigenerano nulla sono solamente un potente antinfiammatorio e vanno utilizzate in un gruppo selezionato di pazienti in coloro che veramente ne possono beneficiare Dottore, qual è il decorso post-operatorio? Allora, il decorso post-operatorio nelle prime giornate prevede un relativo riposo, un relativo scarico articolare l'eventuale utilizzo di stampelle e spesso noi consigliamo l'utilizzo di una pancera poiché il prelievo effettuato a livello dell'addome potrebbe dare qualche disconforto a livello della pancia del paziente appena il paziente se la sente abbandona le stampelle e ricomincia le sue attività abituali cominciando l'eventuale attività sportiva o attività ricreativa più pesante dopo 20-30 giorni Allora, per approfondire questa argomentazione così interessante come si può fare per contattarla eventualmente anche per un consulto? Allora, a Fano i pazienti mi possono trovare presso gli ambulatori di Via Roma che sono siti in Via Togliatti Triangolo Via Roma oppure possono consultare il sito internet www.eneadavide.it www.eneadavide.it